Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Flius, come anticipato adesso i fatti di cronaca. Brutta avventura, ieri a Comiso un bambino di 10 anni si è allontanato da scuola. Fortunatamente è stato ritrovato dagli agenti di una volante vicino alla casa dei nonni. Vediamo. Attimi di paura ieri alla scuola elementare segna di Comiso. Un bambino di 10 anni si è infatti allontanato dall'istituto. A lanciare l'allarme al locale commissariato è stata un insegnante. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia. Agli agenti l'insegnante ha raccontato che durante una verifica di matematica un alunno con la scusa di recarsi in bagno è uscito dall'aula senza fare più ritorno. Immediatamente il personale scolastico si è messo alla ricerca dell'alunno ma senza successo. Una bambina della stessa scuola ha poi raccontato di averlo visto allontanarsi dall'istituto. A quel punto è intervenuto tutto il personale del commissariato anche perché, essendo giornata di mercato settimanale a Comiso, il timore era che il bambino potesse sparire tra la folla. I poliziotti hanno allora perlustrato tutti i luoghi in genere frequentati dal piccolo mentre nel frattempo sono stati contattati i genitori che riferivano che era la prima volta che il bambino assumeva un atteggiamento del genere. Una volante si è intanto recata nel quartiere dove abitano i nonni, denominato zona 167. Proprio in quella zona e precisamente all'altezza della rotatoria tra Viale delle Americhe e Corso Cimine, gli agenti hanno notato un bambino corrispondente alla descrizione fornita. Il piccolo, con ancora indosso il gremiule, alla vista degli operatori si è avvicinato piangendo e li ha abbracciati. Il bambino ha raccontato che dopo aver provato a fare un giro nella zona dei mercati era andato dai nonni ma non avendoli trovati in casa aveva perso l'orientamento non riuscendo a tornare più a casa sua. Gli agenti, dopo aver accertato le cognizioni fisiche che fortunatamente erano buone, lo hanno riaccompagnato a scuola dove vi erano i genitori ad aspettarlo. Una volta cessato l'allarme e affidato il minore ai propri genitori, gli operatori hanno proceduto all'identificazione di tutto il personale che era presente nell'istituto al momento dell'allontanamento del minore. Sarà infatti vagliata la posizione di tutti i soggetti presenti al fine di valutare eventuali responsabilità penali circa il mancato controllo dei bambini loro affidati. E ancora cronaca, la squadra volanti della questura di Ragusa ha arrestato un uomo per lesioni personali, mettendo così fine alle violenze subite da una giovane donna invalida. Ha picchiato una donna invalida minacciandola di morte. Gli uomini della squadra volanti della questura di Ragusa hanno arrestato Paolo Rapposelli, 62 anni, nato a Chieti e residente a Ragusa. Ieri intorno alle 14 una donna di 30 anni ha chiesto aiuto al 113 riferendo che il compagno la voleva uccidere e che lei si era chiusa in bagno dopo essere stata picchiata furiosamente. Immediato l'intervento di due equipaggi della squadra volanti che ha fatto ingresso nell'abitazione hanno bloccato l'uomo e rassicurato la vittima. La donna, ancora dolorante, ha chiesto aiuto in quanto non riusciva a respirare bene per un forte dolore al petto, motivo per cui, considerata le sue condizioni di salute, è stata affidata alle cure del pronto soccorso. Gli agenti, mentre accompagnavano la donna in ospedale, si sono fatti raccontare quanto è accaduto. Una storia di violenze sopprusi che andava avanti da più di un anno. La vittima riferiva che l'uomo più volte l'aveva minacciata di morte, picchiata ed umiliata, approfittando della sua invalidità al 75%, certificato dal locale nosocomio. La giovane donna riferiva inoltre che l'uomo molto più grande di lei aveva approfittato del suo stato di salute perché non aveva più un'abitazione con molta insistenza e era riuscita a fare ingresso in casa sua nonostante i continui rifiuti, ma con la promessa di dividere le spese. Le minacce che quotidianamente subiva erano molto specifiche in quanto Rapposelli custodiva delle armi presso una falegnameria dove lavora e la vittima viveva con questa spada di Damocle. Difatti l'uomo le aveva anche fatto vedere le armi con lo specifico scopo di farla vivere con la paura. Effettivamente, dalle indagini immediatamente iniziate, gli agenti hanno trovato varie armi, un arco pugnale, stiretti e balestre che essendo state utilizzate per minacciare la donna, sono state sequestrate. Ieri i due avevano avuto una lite per futili motivi. I medici, effettuati tutti gli accertamenti, hanno diagnosticato che a causa delle lisioni subite la donna allo sterno è una costola fratturati. L'uomo con vecchi precedenti di polizia è stato arrestato e messo a disposizione dall'autorità giudiziaria competente. I due arresti sono stati effettuati da parte dei carabinieri delle stazioni di Ragusa Ibla e di Santa Croce e Camerina impegnati nella lotta allo spaccio di droga. Avevano il sospetto che nei vicoli di Ibla si tenesse un'attività di smercio di hashish e così hanno organizzato un apposito servizio per cogliere lo scambio di droga e soldi. I militari della stazione di Ragusa Ibla hanno notato una loro vecchia conoscenza, un soggetto dell'est Europa già noto alle forze dell'ordine per la sua vicinanza all'ambiente degli stupefacenti. I carabinieri appositamente nascosti hanno notato un uomo, già noto quale assuntore di stupefacenti, avvicinarsi al sospetto e salutarlo. Fra i due poi c'è stato un cenno di intesa, così hanno entrambi preso qualcosa dalle rispettive tasche e se la sono scambiata. A questo punto i militari li hanno bloccati per impedire di allontanarsi e di disfarsi di ciò che avevano in mano. In particolare nella mano dell'acquirente vi erano due grammi di hashish, nella mano del venditore invece 20 euro. Dalla perquisizione personale dello spacciatore non è uscita altra droga, ma in tasca sono stati recuperati più di 100 euro in pezzi di piccolo taglio che sono stati sequestrati. Lo spacciatore è stato subito arrestato. Si tratta di un polacco 47enne domiciliato a Ibla, sottoposto agli arresti domiciliari. L'acquirente verrà invece segnalato al prefetto quale assuntore di stupefacenti per i provvedimenti sanzionatori connessi. E qualche ora prima dell'arresto di cui avete sentito nel servizio precedente, ad alcuni chilometri di distanza i carabinieri di Santa Croce hanno eseguito un ordine di carcerazione messo alla Procura della Repubblica per la detenzione di Ustameta Andi, 26enne albanese che vedete nella foto. Ora il giovane fa il bracciante agricolo ma nel 2011 sbarcava il lunario vendendo droga e due anni fa era stato arrestato. Inesorabile è giunta la condanna e il relativo ordine di esecuzione. Ieri mattina i carabinieri lo hanno ritracciato, arrestato e accompagnato in carcere dove dovrà scontare un residuo di pena di 9 mesi e 12 giorni. E ci spostiamo adesso ad Acate dove un muratore è stato aggredito e rapinato subito dopo avere prelevato dei soldi in banca. Due persone lo hanno sorpreso alle spalle e dopo aver preso e le portafogli sono fuggiti via. Rapinato da due ignoti, ad Acate un muratore di 33 anni ha denunciato di essere stato aggredito alle spalle da due persone. L'uomo ha raccontato ai carabinieri della locale stazione che verso le 15.30 nei pressi di via Nazario Sauro era stato avvicinato e bloccato alle spalle da due giovani i quali lo hanno prima aggredito e poi gli hanno sottratto il portafogli contenente la somma in contanti di circa 430 euro prelevati poco prima dallo sportello bancario di un istituto di credito di via 20 Settembre. I due si sono poi diluguati a piedi per le vie limitrofe. Nei primi accertamenti effettuati dai carabinieri della stazione di Acate è il risultato che gli aggressori abbiano un'età compresa tra i 25 e i 30 anni e siano di origine magrebina. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire alla loro identità. E adesso un singolare episodio per le nostre zone. Un orso sarebbe stato avvistato a Chiaramonte Gulfi nelle zone di campagna ad avvederlo appunto un rumeno che ha avvertito i carabinieri. Un orso si aggira per le campagne di Chiaramonte Gulfi, singolare episodio che si sarebbe verificato ieri pomeriggio nella cittadina montana. Un cittadino rumeno ha avvertito i carabinieri della locale stazione dello strano avvistamento. L'uomo era intento a raccogliere degli asparagi incontrati a Cassarello ed ha raccontato ai militari di essere stato inseguito da un orso di medie dimensioni. I militari insieme al personale del distaccamento del corpo forestale hanno effettuato allora un sopralluogo accurato nella zona segnalata, senza però rilevare tracce utili a comprovare il passaggio dell'animale. E lasciamo la pagina di cronaca e cambiamo argomento. Parliamo adesso del MUOS. Prevista per domani la caravana sonora no MUOS, una manifestazione in cui si ballerà e si canterà per dire no al MUOS. L'hanno chiamata la caravana sonora no MUOS. Si tratta di un'iniziativa nata da un'idea di un gruppo di giovani che coinvolgerà migliaia di persone provenienti da tutta la Sicilia. Si mangerà, si canterà, si ballerà e si trascureranno momenti in allegria per dire no al MUOS. Vogliamo condividere la nostra volontà nel luogo dove giornalmente siciliani disoccupati e nonne danno un segno tangibile che questa lotta è viva, spiegano gli organizzatori di questo appuntamento che sarà l'insegna del no mare, no montagna, no lasagna e no MUOS. L'appuntamento allora è per domani, 3 marzo a Niscemi, dalle 12.30 in poi. E adesso una notizia di calcio. Domani decima giornata di ritorno del campionato di eccellenza. Il Comis ospiterà l'Atletico Villafranca e la vittoria giocherà fuori casa contro il Tiger Bloro. Modica pure fuori casa a Mister Bianco. Bene, con questa notizia termina qui il nostro prodigy. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito fritvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.